Buona giornata. L'icona di oggi, come vedete, è molto bella ma difficile da capire. Infatti il titolo è Madre di Dio, giardino chiuso. All'inizio c'è tutta questa spiegazione del giardino chiuso. L'allegoria del giardino di gusto aristocratico e libero da ogni riferimento strettamente liturgico si sviluppa nel XVII secolo in riferimento a Maria. I giardini sono considerati fin dall'antichità luoghi spirituali. Nei monasteri medievali il chiostro è il luogo della lettura e della meditazione, che è il luogo immagine del paradiso. Anche il giardino rinascimentale, circondato da un recinto, per cui è chiamato Ortus conclusus, il giardino chiuso, è immagine mistica che secondo i padri della chiesa e l'iconografia richiama Maria Nuova Eva. Dall'immagine botanica di orto che unisce bellezza e utilità si passa, nella Russia del XVI secolo, a coltivazioni puramente decorative e simboliche, come la tenuta paradiso presso Kiev di un grande russo e il giardino rosso delle cronache di Santi Pazio di Ganga. In russo i termini rosso e vuol dire krasni e bello si identificano. Quest'icona costituisce un esempio di come in Russia si sviluppò il gusto per il giardino occidentale barocco settecentesco e rococò. L'autore, che lavorò nel Palazzo delle Armi del Cremlino di Mosca, dipinge una balaustra affacciata sul parco imperiale e più in là un ampio panorama di colline e villaggi. L'oro domina profusione sulla corona e sui vestiti del bambino e della madre, sui quattro vasi agli angoli della recinzione. Il giardino è diviso in tre parti ed è fiorito di garofani e tulipani alternati a piccoli alberi ornamentali. La Vergine è vestita come una regina ritta in piedi con il bambino e incoronata dagli angeli, sullo sfondo la prospettiva di un giardino di corte. Quest'oggi che è sabato vogliamo pregare il rosario perché questa sera riprenderemo le nostre messe domenicali e vogliamo pregare perché la Madonna ci aiuti a vivere tutti questa fatica che stiamo facendo nel trovare le misure per poter vivere bene l'Eucaristia. Lei che è stata vicino a Gesù ci aiuti soprattutto sapendo che oggi è già il secondo giorno della novena di Pentecoste dello Spirito Santo e quindi la Madonna Ortus Conclusus, cioè appartenente solo a Dio, ci dia una mano. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora la nostra preghiera alla Vergine Maria, anche questa mattina, tratta dall'inno Akatistos. Ave o Madre dell'Agnello Pastore, ave o recinto di gregge fedele. Ave, difendi da fiere maligne. Ave, tu apri le porte del cielo. Ave, per te con la terra esultano i cieli. Ave, per te con i cieli tripudi alla terra. Ave, tu sei degli apostoli la voce perenne. Ave, dei martiri sei l'indomito ardire. Ave, sostegno possente di fede. Ave, vessillo splendente di gloria. Ave, per te fu spogliato l'inferno. Ave, per te ci vestimmo di gloria. Ave, vergine e sposa. E allora viviamo bene questo sabato. Le confessioni le cominceremo nel mese di giugno, per cui ci sarà la possibilità poi di accostarci tutti i sabati alla confessione. Ci vediamo questa sera per chi viene alla celebrazione alle 18 e 15 e poi l'appuntamento è alle ore 21 per per il rosario con il secondo giorno della novena allo Spirito Santo. Buona giornata a tutti.